Salve a tutte ragazzi, oggi sono qui con un nuovo video e come avrete visto già dal titolo è un My Unpopular Opinions. Mi scuso subito per il mio aspetto, ma ieri sono stata male, oggi ho avuto una giornata piena di lezioni, quindi direi di passare subito al video. Anzi no, vorrei fare una premessa, è un video che gira su YouTube da secoli e ho sempre avuto l'idea di farlo, ma è fatto, ma è fatto. Adesso vi faccio vedere, forse dall'iPad non esce perché l'ho spediti adesso sull'iPad per non dimenticarmi niente, ma questi appunti risalgono tipo al 20 di agosto di questa estate, ma non ho mai fatto questo video, quindi ho deciso di farlo adesso perché non sapevo cosa filmare, volevo fare un video leggero, quindi ho detto, perché no facciamo questo? E vi dirò, le My Unpopular Opinions sono solo 10, sono cose stupide, credetemi, sono così leggere come cose, quindi non prendete nulla sul serio, cioè nulla prendete sul personale se dico qualcosa e stiamo qua solamente per alleggerirci un po' la vita e essere più positivi. Allora, prima cosa, non mi piace la panna, non so se è una cosa che succede sulla me o la maggior parte delle persone, ma io odio la panna, soprattutto quella là, già nei barattolini, questa qui, ecco, e soprattutto con le fragole, non mi piace, non mi piace nei dolci, non lo so, è una cosa mia, boh. Mi piace se la monto a casa con lo zucchero e tutto, sì, però quella già montata non mi piace. Numero 2, non mi piace il caffè e tutto ciò che lo riguarda, tipo cappuccino e nemmeno la cioccolata calda. So che a molte persone non piace il caffè, però di solito quelle persone la cioccolata calda e il cappuccino se lo bevono, a me non piace nulla di questo, proprio non riesco a berlo. Il cappuccino forse, una volta ogni tanto, una cosa che bevo è il caffè e il ginseng, però non riuscirei a berlo spesso, ma una cosa che bevo tantissimo è il tè, adoro il tè, in tutte le sue scaccettature, e bene sì. Mi piace il wasabi, ma non la salsa di soia. Per chi non sapesse cos'è il wasabi, significa che non siete mai andati a mangiare il sushi, credo. Comunque, è quella poltiglia verde molto forte che vi danno insieme al sushi, vi metto anche qua l'immagine. E odio la salsa di soia, proprio non riesco a mangiarla, per me non ha nessun senso quella salsa, sempre senza offese, però è così. Poi, numero tre, non mi piace guardare le serie tv, tipo le serie su Netflix, vedo la gente strapresa dalle serie che le guarda step by step. Allora, io non mi piace guardarle per tre motivi principali. Una, voglio sapere subito come finisce la storia, quindi primo motivo. Seconda cosa è che mi faccio troppo prendere dalla storia e tutto, e quindi va a finire che prima cosa ci lascio la mia sanità mentale dietro a una serie, perché c'entro troppo, la prendo troppo sul personale, soprattutto le ingiustizie e quelle cose là. E tre, perché mi troverei a guardare tutta la serie, magari di 100.000 stagioni, in una notte, se sono già uscite. Se no, starei male, perché non sono ancora uscite le serie successive e voglio sapere come va. Quindi, è un po' una situazione complessa e per questo motivo preferisco non guardarle. Poi, magari se l'iPad mi fa il favore di leggermi l'impronta, continuiamo. Non mi piacciono i classici cartoni giapponesi, tipo Pokémon, Doraemon, scusate cosa stavo dicendo, stavo dicendo una blasfemia. Non mi piacciono i cartoni giapponesi, tipo Pokémon, Dragon Ball, tutti questi qui. L'unico che mi piace è Doraemon, non so da dove mi sia uscito, però l'unico che mi piace è il piccolo Doraemon. Poi, non mi piace proprio la moda dei sandali a ciabatta, tipo quelle delle Gucci. Allora, non intendo, tipo, sandali tedeschi con i calzini dentro, quelli secondo me non piacciono a nessuno, tranne ai tedeschi stessi. Però, tipo, la moda di andare in giro con le ciabatte della Gucci da 300€, non mi importa che sono da 300€, sono delle ciabatte di gomma. Si usano per andare a fare la doccia, per andare in piscina, ma non per uscirci in giro con i calzini, magari anche con le calzerrete. Orribili! E mi dispiace per le persone che lo fanno, non vi offendete. Numero 6, non mi piace il latte. Era il numero 6? Sì, numero 6. Non mi piace il latte, mi dispiace, non mi piace il latte con i biscotti, il Nesquik, tutte queste cose qua. Ecco perché non mi piace il cappuccino, il latte macchiato, queste cose qui. E nemmeno i derivati, nel senso, i formaggi, lo yogurt, mi piacciono se sono preparati o comunque alcuni, non tutti. Tipo lo yogurt, preferisco quello senza grassi, perché quello dove sento il grasso del latte sul latte mi fa stare male, quindi non mi piacciono. Poi, numero 7, non mi piacciono i programmi tv trash. Non mi piace il trash, non seguo le persone, non sono un tipo di fan che va a guardarsi le persone che escono da uomini e donne, oppure grande fratello, vippe e cose del genere. Sono dei famosi, cioè figuriamoci, non so nemmeno chi esiste di queste persone che fanno parte del mondo trash e io lo reputo trash. Mi dispiace per le persone alle quali appunto piacciono questi programmi. Secondo me è il fatto di dare pane al popolo, quindi per riderci su, però non prenderei nulla di quello sul serio, perché in realtà è tutto copione, tutto quanto per far ridere dell'ignoranza delle persone, quindi non mi piace, mi dispiace. Poi, stiamo quasi finendo. Mi piacciono i Minions. Ebbene sì, amo i Minions. Qua ho una prova vivente, mi piacciono i cartoni animati e ho un Minions gigante qui, che mi hanno regalato i miei genitori un paio di anni fa e lo amo. E neanche un altro paio di Minions, poi ho tutti i giocattoli delle uova di Pasqua dell'anno scorso di Minions e anche dell'anno ancora prima. Quindi sì, amo i Minions, si è capito. E lo lascio qua ormai. Per l'ultima frase, l'ultima frase, l'ultima unpopular opinion, oserei dire anzi, mi piacciono i bulldog francesi. So che a molte persone i bulldog francesi non piacciono per il mosetto schiacciato, quello che sia. A me piacciono tantissimo, così come i bull terrier e i gatti sphinx. Secondo me sono carinissimi e non capisco perché la gente li odia. Per chi non sapesse quali sono i bull terrier e i gatti sphinx, allora i gatti sphinx di solito vengono chiamati topi. Vi metto una foto qui, poverini. E i bull terrier di solito vengono chiamati squali. E vi metto anche di questi una foto qui, li metto insieme. Un giorno ne avrò uno per ciascuno. Quindi mi dispiace per i vostri occhi, se mi seguirete li dovrete vedere insieme anche al bulldog francese e anche a un carlino perché adoro anche quelli. Però i carlini bene o male fanno tenerezza a tutti, invece i bulldog francesi e queste due razze di cane e gatto di solito o li ami o li odi, ti fanno schifo. E mi dispiace, io sono dalla parte delle persone che li ama. E nulla. Questo era tutto, spero che questo video vi abbia tenuto a compagnia. Come ho detto, prese tutto quanto alla leggera, sì, tutte le cose che ho detto sono vere. Però se una di queste cose non corrisponde alle vostre idee, non volevo offendere nessuno, lo specifico. Questo deve essere un video di intrattenimento molto leggero, quindi per riderci su. E se volete mi potete anche prendere in giro. E mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace, se vi piace il mio canale, se volete sostenermi, continuare a seguirmi, iscrivetevi, accendete la campanellina. Se volete scoprire di più di me, visto che comunque su YouTube non fuoriesce tutta la mia vena di Cristina, potete seguirmi anche su Instagram, Crissa Olo, vi metto il link qui sotto nell'info box, come sempre. E commentate, ditemi voi, se anche a voi queste cose piacciono oppure non piacciono. E magari ditemi quali sono le vostre unpopular opinion. E baci, questo era tutto, ci vediamo domenica per il weekly vlog. Ciao!